Iena hai mai provato a scrivere pezzi in inglese? Bumarum! Ma guarda qualche frase in inglese la tiro fuori però la frase, spero un giorno di imparare l'inglese, me ne andrò un mese a Amsterdam, tirato fuori una città qualsiasi. E invece ci chiedono anche che ne pensi dei dissing, bella domanda, guarda il dissing nell'hip hop esiste, quindi la competizione nell'hip hop c'è e c'è sempre stata, però io credo che la competizione inizia e finisce là, perché la competizione c'è nella gara di breaking, la competizione c'è nella gara di rap, la competizione c'è nella partita di pallone e come una partita di calcio sai, poi ovviamente c'è il cattivo esempio del calcio in Italia dei tifosi che magari si pigliano ammazzate per una partita di pallone, io sono un grande tifoso del Napoli ma ho amici che tifano per tutte le squadre, quindi non ci sono problemi, voglio dire, calcisti perché si parla tra persone intelligenti, la stessa cosa è nel rap, io nel rap mi sono sfidato con Enzi tantissime volte, mi sono sfidato con Chiave, mi sono sfidato con tanta gente che sono tra i miei migliori amici del panorama hip hop italiano, se noi volevamo fare i Tupac e Notorious Biglia, allora facciamo gli scontri, Napoli-Torino, Milano-Torino, cose così che comunque non hanno senso secondo me perché provati a domande, cioè alla fine mi domando anche perché sono pure i più forti quelli lì che non litigano, perché sono i più forti quelli che non litigano, i più forti sono quelli più intelligenti, cioè perché io Chiave e Enzi siamo quelli che hanno vinto tra le gare di freestyle in tutta Italia, non c'è mai stato uno scazzo tra di noi, perché inizia e finisce lì la competizione, ecco, io credo che siamo un po' da immaturi utilizzare il dissing o la violenza, per portarsi dietro, sì, tante cose che sono stronzate, voglio cioè stiamo in Italia, ma stiamo scherzando, capito, l'ho detto prima, è la stessa cosa, quindi secondo me il dissing ci sta, e poi mi piacciono le chicche, sai, quella cosa che magari io faccio il pezzo contro di te, però non dico nome, cognome, fatto di lui, così, bo 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 bo, poi questa è una scelta mia, io rispetto le scelte degli altri, non è che sto dicendo che i rapper che fanno i dissing agli altri sono stronzi, assolutamente, ognuno ha il suo modo, ognuno ha il suo modo di pensare, magari c'è quella chicca che tu tiri fuori e dici, oh madonna può darsi che lì ce l'aveva con lui, perché gli ha detto la maglietta verde e quella sera la maglia verde ce l'aveva solo quella, però sono chicche, capito, sono cose così, quasi indovinelli diciamo, sì, guarda, il dissing c'è nell'hip hop, ci sarà per sempre, come nelle gare di breaking, come nelle gare di writer, ci sta chi si odia e si va, per arrivare alla violenza addirittura fisica, secondo me, non puoi esagerare, poi ci sono ragioni e ragioni per carità, io alzo le mani, per il momento non ho mai avuto problemi con nessuno, quindi non ho intenzione di avere problemi con nessuno, anche perché penso che non litigo qualcuno forse dalla terza media, per cui, le medie si litiga sempre, c'è sempre quello che ti aspetta fuori, perché quello che ti ha scritto il nome alla lavagna, esatto, sto infame quando la brussoressa andava fuori, mi raccomando che c'è, tu a proposito di sfide, vieni dall'esperienza di MTV, Spit, che è stata registrata appunto proprio in questi giorni, come l'hai vissuta questa esperienza, al di là di non diffondere chi ha vieno, si sai mai che proiettivo? Interessante, ecco, ecco, questo è il termine, interessante, perché? Posso fare presuntura? Certo, certo. Perché quando si presenta una gara di freestyle a MTV e dicono, no, ma che hanno fatto? Sono andati a fare freestyle in TV a MTV, e beh, sono chiuso a fare freestyle, sono chiuso a fare una pop special, sono chiuso a fare freestyle. Allora, se io partecipo, Enzi partecipa, Chiave partecipa, Noema, Moreno, tutti i ragazzi rancore, tutti i ragazzi forti a fare freestyle, partecipiamo tutti, no? Ma chi cazzo si deve permettere di parlare? La gente che non sa fare freestyle. Allora, quando tu vieni da me, tu non tu, e dici, oh che fa, sono andato a MTV a fare freestyle, io lo sai che gli rispondo, ma tu lo sai fare freestyle, ma tu hai mai vinto una gara di freestyle? Allora tu stai venendo da me a dire che cosa devo fare e che cosa non devo fare, eh ma guarda che io sono un rapper che ho iniziato vent'anni fa, sì ma sai fare freestyle? No, allora vattene a fanculo, te ne devi andare a fare in culo, tu e tu underground di merda, tu e i tuoi rapper di merda che ti porti dal novanta presso, te ne devi andare a cagare, perché tu sei un coglione che anni fa, non parlo di nessuno in particolare, parlo della situazione rap, che anni fa, tanti hai capito, no, vai a MTV, fai vedere il video e tutto, ora venite a rompere i coglioni a noi, a noi che siamo gli unici credibili che hanno vinto le gare di freestyle in tutta Italia negli ultimi anni, venite voi a dire a noi dove dobbiamo andare a partecipare, allora coglione di merda, ok scusate ragazzo, il momento è errato, coglione di merda, per me in giuria ci può stare pure Gerry Scotti, sono io a decidere se vado a MTV o no, non tu, coglione di merda, avete sentito la iena arrabbiata qui a Cristal Radio, Milano FM 96.4 e adesso ci ascoltiamo il pezzo Rovine, tratto dall'album Iena, Clementino e Mama Marias, su produzione di Biosci, il fuori, vai mo, piano 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 piano, 1, 2, 1 Allora dunque, sapi che noi avevamo qua, abbiamo visto uscire uno e sei entrato tu, ma c'era uno che ti assomigliava prima che ha sfasato al microfono, non so se lo conosci, ah bianco Bianchissimo Tipo lominotico Praticamente sì Iena White era Iena White Iena White È il mio alter ego Quello arrabbiato Stai attento Perché ogni tanto arriva Tranquillo Quello arriva solo per dire Capito Punzecchiare i rapper Arriva là Scrocca le teste dei rapper Capito com'è Esatto Tra l'altro è stato anche apprezzato Ci scrivono E si vede che ce l'aveva ragione Ma che ha detto Esatto Un po' di cose che non posso ripetere Parliamo delle pappardelle Le pappardelle Sì Esatto E quello che dovrebbero fare Vedete quelli là Si devono mangiare un piatto di Pappardelle e i funghi porcini Non vuoi tirare di vino No perché tu comunque Hai fatto il rap Il disco la cosa Tu l'hai fatto il disco E allora che parlo a fare Perché è tornato Iena White Via Iena White Tra l'altro ci A Medio ci scrive Grande Clementino Ma non era Clementino Era Iena White A Medio Stai attento Posso invitare gli amici Di Cristal Radio I nostri ascoltatori Di nuovo Perché già ne ha invitati prima A vedere il video Rovine Clementino Fidori Mamma Maria Perché ragazzi È un video finale Cioè ti dico che Praticamente ci abbiamo messo Più a fare il video Che a fare tutte e due Dischi Rap star Iena No per il semplice fatto Che è un video Veramente molto Sofisticato Ma fatto bene Una fantasia Fatto prima di tutto Sull'Etna Quindi siamo andati Tra Messina e Catania Quindi prima sull'Etna Poi per strada Con questi punk ambigui Che appaiono nel video In un'era post atomica E non si capisce nulla Bellissimi Ci stanno gli iguana Ci stanno i serpenti Lo zoo Perché guarda Io ti dico una cosa C'è il rapper Che appartiene alla strada No Il rapper che appartiene Sai Contro la polizia C'è il rapper Che appartiene ai parti Quello lì Che fa divertire Siamo tanti rapper No la voglia Ognuno c'è il suo genere Io credo di essere Il rapper che appartiene Alla natura Sai quello degli animali Per questo noi rovina Capito Io con mamma maria La madre natura E la iena Messi insieme Abbiamo fatto il pezzo Wild Gazz Esatto Ragazzi selvaggi La natura Più wild E così Noi non apparteniamo Ai bling bling Dell'America Noi apparteniamo Al tantam Dell'Africa Noi non siamo Non è sud Italia È sud Europa Ragazzi Stiamo scherzando Abbiamo del black Dentro Che scorre Da tutte le pare Ma voi si io io Un altro video Che abbiamo appena linkato Sulla nostra bacheca Di WH streaming Sempre HACCA Così ve lo potete andare A vedere Abbiamo gli ultimi Quattro minuti Io ti faccio una domanda E poi ci andiamo ancora Ad ascoltare un pezzo Con chi vorresti collaborare Adesso? In Italia? Italiano? Anche Anche del panorama internazionale Italiano Due In assoluto Pino Daniele E Giovanotti Per me Lorenzo Spacca ragazzi Cioè io Lo ascolto dall'88 Capito Avevo le cassette E niente E internazionale invece? E internazionale Ovviamente I rapper Che ti ho nominato prima Quindi Andiamo sull'impossibile E non lo so Snoop Dogg Magari Diciamolo Dai Un giorno Un giorno Un giorno Nell'alto dei cieli Me ne vado a New York E beh non si sa mai Però Perché sa Che c'è la Se sai La rosa Fabrica Luce Eh sì è vero Tutto è possibile E invece Hai già in parte Ci hai già in parte Dato un'idea Che cosa ascolti Quando non ascolti rap Pino Daniele Ottimo Da quando usciva Con Napoli centrale Ci chiedono un freestyle Ma sappiate Che lui Fuori onda Registrerà appunto Per noi Uno schittino Della nostra sigla Per cui lo sentirete E' bellissima fra Yes Benissimo Che compagni a me Ogni tiro Faccio gol Faccio pallone Tanto come Crystal ball On the microphone Kit catch Pocuol Yena White Caccia il raggio Come Dragon ball Che la cat Faccio stile Po C'ho Dan Coghetto blaster Ngo paspal Nu saluta Radio Crystal Io E' perfetto Io lo terrei così Tanto Abbiamo Erin solo Perfetto Allora Grazie mille Per tutto Clementino Qui sei sempre invitato Sappiamo che devi Dare ancora due dritte A chi ci ascolta Prego Un saluto A tutti gli amici Di Crystal Radio Per ogni Eventuale Situazione Live Video Potete trovare Aggiornamenti Su twitter.com Slash Clementino Yena Oppure la mia pagina Ufficiale facebook Che è facebook.com Slash Clementino Yena White Un saluto Agli amici di Crystal Radio I due speaker Che fanno Paura Letteralmente Un saluto Da Clementino Yena White Ascoltiamo E ci rimani male Rap star Ciao 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 Ciao